Per un milione di italiani parlare non è proprio un fatto liscio, soffrono di balbuzie di questi 150.000 son bambini. Salute dottoressa, grazie. Bambini che entro i sei anni però risolvono nella maggior parte dei casi questo problema. Sì esatto, in tanti casi però questo problema permane poi anche durante l'età adulta, la balbuzia non è solo un problema di fluenza ma va a condizionare poi anche tutte le varie sfere della persona, quindi le varie scelte in ambito lavorativo, scolastico. Certo, impatta molto sulla vita ma perché molte persone appunto non riescono ad avere un linguaggio fluente ma si blocca su alcune consonanti, su alcune lettere? Allora, la scienza non ha ancora stabilito con certezza quali sono le cause della balbuzia, quello che si è visto però c'è una perdita di controllo nei movimenti legati alla fonazione, per cui nel momento in cui io sento un blocco, il blocco lo percepisco prima di parlare e quindi di conseguenza questo blocco che si percepisce di solito a livello diaframmatico la tronca e si entra nel loop che non si riesce a scavallare e andare avanti. Ci sono varie scuole di pensiero per affrontare la balbuzia. Ci sono gli approcci un po' più logopedici standard che vanno a dire la balbuzia è un disturbo del linguaggio, quindi vado a cambiare il modo di parlare con tecniche basate sul canto, iperarticolazione, allungamento dei suoni, fare un po' la cantilena, modifico il mio modo naturale di parlare e di conseguenza con ore, ore di allenamento e cambiando il mio modo di essere parlo meglio. E però insomma è un artificio in qualche modo e quindi la persona che ha superato la balbuzia che però poi ha una iperestensione delle labbra per poter articolare in un certo modo eccetera ha altri problemi sociali probabilmente. Va a pesare sicuramente nelle relazioni con gli altri e comunque non c'è una naturalezza e una generalizzazione nell'applicare queste tecniche fuori. Vi sono poi anche altri approcci più psicologici che vanno a dire provo a rilassarmi, promuovo l'autostima ma di fatto non vanno al cuore del problema. Allora voi qui a Milano all'Istituto Viva Voce che cosa avete messo insieme per creare il vostro metodo? Ci avvaliamo di un team multidisciplinare composto da psicologi, logopedisti e fisioterapisti in cui si va appunto a lavorare in prima battuta con un approccio di tipo motorio ovvero andando a riprendere il controllo di ogni singolo movimento sottostante l'atto verbale, l'atto fonatorio. Per esempio? Facciamo un allenamento degli esercizi proprio di coordinazione motoria in cui per prendere consapevolezza e riprendere il controllo dei pezzi della mia faccia che uso per parlare quindi labbra, lingua, mandibola eccetera vado a coordinarli con lo schema legato ad un'altra parte del corpo può essere un movimento di una mano, di un braccio e quant'altro. E per questo vi avvalete anche di avatar un'elaborazione computer grafica naturalmente perché è così importante? Allora sì abbiamo questo nostro, questo software che si usa in ambito di fisioterapia si chiama Riablo e che utilizziamo appunto per andare a coordinare in modo preciso e accurato due schemi motori diversi quello legato al parlare è uno schema motorio stabile più generale come un movimento degli arti, delle mani o di altre parti del corpo. Poi però nella vita di tutti i giorni non è che uno per dire una parola deve muovere contestualmente un braccio o una gamba. Assolutamente no, questo è proprio un primo step per andare a ristabilire un ordine motorio poi andiamo via via a interiorizzare questi schemi e a portarli nella vita vera. Loro in questo momento che cosa stanno facendo? Allora sono in una fase appunto di postcorso stanno facendo delle attività di gruppo che si basano sia alcune parti più di allenamento intensivo ripetizioni di frasi, lettura eccetera e parti più destrutturate di esposizione, di racconto, di conversazione. Se il lavoro fatto qua dentro è supportato da un allenamento fatto a casa e la messa in pratica quotidiana si vanno via via a raggiungere gli obiettivi. In media quanto dura questo corso per recuperare una quasi normalità diciamo? Allora il percorso in tutto dura sei mesi, lo standard c'è una fase di una settimana di corso intensivo e poi la parte di lavoro riabilitativo postcorso per consolidare, per generalizzare poi nel quotidiano. Purtroppo la balbuzia non è riconosciuta nei LEA quindi sono tutte spese a carico della persona insomma che voglia seguire questo come altri corsi naturalmente. Sì allora noi in quanto centro medico si tratta di una prestazione sanitaria quindi può essere scaricabile però sì non rientrando nei LEA non ci sono comunque tutta una serie di tutele e di diritti non le paga direttamente l'ASLA per capirci. A che età è bene che un genitore si preoccupi della balbuzia e del bambino? Quando lo deve portare da uno specialista? Allora noi di base come età consigliamo l'ingresso nelle scuole elementari quindi dai 6-7 anni in poi sicuramente prima si intraprende questo percorso di riabilitazione meglio è sia perché più si è giovani più si è plastici.